Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Spero che abbiate passato un bel Natale, una bella vigilia e soprattutto abbiate passato un bel Capodanno in compagnia della vostra famiglia, in compagnia dei vostri amici o delle persone che più amate. Detto ciò ci tenevo a ringraziarvi per ovviamente avermi accompagnato in questo 2022, sperando che il 2023 sia migliore rispetto all'anno che abbiamo appena salutato. Oggi vi omaggio con una mia top, anzi per la verità saranno due top, la mia top dei cinque giochi che mi sono piaciuti per quanto riguarda questo 2022 e un'altra top che invece sarà per l'appunto i miei flop del 2022. Sono stato piuttosto selettivo e anche abbastanza critico sotto certi punti di vista, però spero che possiate apprezzare effettivamente ciò che ho da dirvi e soprattutto come ho intenzione di dirvi i miei pensieri a riguardo. Per il resto non c'è ovviamente nient'altro che devo aggiungere, quindi spero vivamente che possiate apprezzare questo genere di contenuto. Iniziamo il 2023 con una ventata d'aria fresca e detto ciò ovviamente vi auguro ancora il meglio, vi aspetto soprattutto giorno 6 per la tombolata che faremo sul mio canale Twitch, quindi vi ricordo appunto di seguirmi anche sul canale Twitch perché giorno 6 alle ore 21 faremo la seconda tombolata che andrà a chiudere ufficialmente queste festività di Natale. Detto ciò non voglio perdere altro tempo, io ovviamente mi auguro che il video possa essere di vostro gradimento, fatemi sapere anche quali sono le vostre top sia di giochi preferiti che di flop di questo 2022, io vi aspetto come sempre con un prossimo appuntamento qui sul canale YouTube oppure in live a partire dalle 21 sul mio canale Twitch. Bene, cominciamo con la quinta posizione. La quinta posizione viene occupata da Risk of Rain 2. È un titolo che in realtà ho recuperato soltanto recentemente, quindi verso la fine dell'anno, anzi letteralmente alla fine dell'anno. Ma è stato un titolo talmente bello, talmente immersivo nei miei confronti che ha preso di prepotenza questo quinto posto. C'è da dire che questo 2022 in realtà mi ha lasciato molto colpito e piacevolmente sorpreso di alcuni titoli che ho avuto la fortuna di giocare, che ho avuto la fortuna di poter provare con mano, ovviamente, e di poter esserne, diciamo, molto soddisfatto. Risk of Rain è sicuramente uno di questi. Risk of Rain, per chi non lo conoscesse, è un roguelike dove è presente la meccanica della permadeath, quindi un pochettino come The Binding of Isaac. Il nostro obiettivo tramite i nostri eroi, i nostri personaggi, sarà quello ovviamente di completare una serie di livelli e quindi completare fondamentalmente un ciclo o una run, così, per entrare in termine più tecnico e sbloccare man mano sia i personaggi che equipaggiamenti e soprattutto sfide, bonus, eccetera, eccetera. È un titolo che sicuramente consiglio agli amanti del genere, anche perché viene caratterizzato da uno stile un po' sparatutto in terza persona, un po' come funzionano altri giochi come Fortnite o altri titoli abbastanza simili, che richiedono una giusta dose di fortuna, una giusta dose di skill e sicuramente tanto, tanto apprendimento e quel pizzico di Rosic che sicuramente non fa mai male. La quarta posizione invece vi ha presa necessariamente da Sifu. Sifu è un titolo che mi ha veramente impressionato e colpito tantissimo. Un'idea semplice ma che comunque nel suo piccolo è riuscito a scatenarmi diverse emozioni. Non solo l'apprendimento, la fatica e la conquista della vittoria portano il giocatore ad un senso di soddisfazione incredibile, ma è anche tutto il resto che secondo me è letteralmente delizioso. A partire dalla grafica, un po' cartoon, un po' manga, un po' stilizzata, con quei tratti che piacciono tantissimo a me, i comandi che sono molto semplici e intuitivi ma che al tempo stesso devono essere compresi e allenati per rendere al meglio. E poi un'idea comunque di livelli strutturati in sequenza e strutturati anche come una sorta di pseudo corridoio dove si ha la possibilità di scontrarsi con molteplici nemici, rende il titolo sicuramente molto piacevole e soprattutto senza impegno. Per quanto riguarda ovviamente la narrativa, perché il gioco è molto impegnativo. Bisogna impegnarsi per imparare le combo, bisogna impegnarsi per battere i boss, bisogna impegnarsi soprattutto all'inizio per capire la metodologia di schivata, di parata e come bilanciare attacco e difesa. Quindi ci vuole tanto studio, tanta passione e anche quel pizzico di dedizione che per un gioco del genere è sicuramente un tocca sana. Due indie, ho già presentato praticamente due indie nella mia top 5 sembra quasi strano ma gli indie ultimamente per me sono veramente fonte di grandissima stima e soprattutto fonte di grandissima fiducia, quindi bravissimi a tutti questi sviluppatori indipendenti che stanno riuscendo a rivoluzionare il mondo del videogame. E detto questo, Sifu ovviamente per chi non lo conoscesse è un picchiaduro a scorrimento, possiamo definirlo picchiaduro a scorrimento, con orde di nemici che appunto bloccheranno la vostra strada, diverse fasi da superare all'interno del livello, con poi successivamente boss finale da sconfiggere per progredire con la storia del nostro protagonista. Soprattutto la versione dell'Axe grazie alla community viene continuamente aggiornata, le idee della community ovviamente non si fanno attendere, quindi è un titolo che nella sua semplicità ha la possibilità di diventare un titolo abbastanza longevo e sicuramente capace di potervi intrattenere per svariate ore. Il terzo posto invece viene preso da Deathloop, niente proprio di meno che Deathloop, un gioco che a prima vista, specialmente da come è c'è stato presentato nei vari eventi dell'anno, sembrava essere un titolo abbastanza deludente, cosa che in realtà invece non è stata. Deathloop è sicuramente un titolo che per gli appassionati è sicuramente un must have, anche se in realtà abbiamo delle caratteristiche simili anche con il Risk of Rain di cui vi ho parlato in qualche posizione precedente. Deathloop, per chi non lo conoscesse, è un gioco ovviamente in sparatutto prima persona con meccaniche di permadeath. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di giocare e soprattutto sviluppare la trama del nostro personaggio in quattro fasi diverse della giornata, la mattina, il pomeriggio, la sera e successivamente la notte. Dove dovremo investigare, cercare di capire come spezzare questo loop, è un personaggio femminile in questo caso che si opporrà alla distruzione di questo loop che poi ovviamente scopriremo per trama essere molto più importante di quello che sembra. Un gioco che di per sé ha una struttura ben delineata e ha comunque delle caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere ma di conseguenza per tutti gli appassionati degli sparatutto, dei roguelike e soprattutto anche del genere investigativo credo che questo sia un titolo di tutto rispetto. Secondo me il problema di Deathloop è che è stato presentato male. È stato presentato come un gioco dove praticamente tu vai all'interno di questi livelli, ammazzi la gente, se muori ricominci e praticamente ricominci da capo. Ma invece non è così. Devo ammettere che il gioco di Deathloop, soprattutto per quanto riguarda la parte investigativa, mi ha veramente intrigato tantissimo. Il fatto di dover raccogliere gli indizi, il fatto di dover compiere delle azioni in determinati momenti del giorno rende il tutto sicuramente più gradevole. È disponibile gratuitamente sul Game Pass, quindi se volete darci un occhio fatelo, ve lo consiglio altamente anche perché per l'appunto il titolo in questione presenta tantissimi pregi, tantissime parti positive, sicuramente presenta qualche pecca che potrebbe o comunque doveva necessariamente essere risolta precedentemente, ma tutto sommato anche per quanto riguarda la componente pvp e multiplayer, devo dire che Deathloop ha rappresentato una piacevole sorpresa e soprattutto ha rappresentato diverse ore di gioco che mi sono state portate via con un sorriso che sicuramente al giorno d'oggi non disdegno. I primi due posti in classifica ovviamente sono abbastanza scontati, in questo caso per me il secondo posto viene preso da The Ring, un gioco che ovviamente non necessita di presentazioni, gioco dell'anno, anzi non JRPG, ma un RPG open world con meccaniche souls che ormai praticamente tutti conosciamo, graficamente parlando purtroppo ci ritroviamo in una generazione vecchia che purtroppo nota tutte le sue pecche qualitative della grafica in diverse sfaccettature, ma che compensa benissimo con la vastità e l'ampiezza di quello che è il suo gameplay, un gameplay veramente immenso. The Ring ha letteralmente stravolto e cambiato le regole di qualsiasi RPG soulslike o di qualsiasi RPG action dove la possibilità di esplorare, la possibilità di poter fare determinate cose, prende praticamente il sopravvento e permette al giocatore veramente di poter fare tutto quello che vuole. Una storia che comunque abbiamo visto e rivisto e che sinceramente non mi ha fatto impazzire dato che praticamente The Ring ha fondamentalmente la stessa storia quasi di un Dark Souls però detto ciò il modo in cui viene affrontata e il modo in cui può essere affrontata questa storia è sicuramente fuori dagli schemi. L'esplorazione è ovviamente la parte che secondo me ha reso The Ring il gioco dell'anno la possibilità di avere una mappa così grande da poter esplorare liberamente senza vincoli e senza mancanze di nessun tipo tranne per qualche piccola meccanica o qualche nemico un po' più forte del previsto rende comunque il titolo di The Ring un titolo veramente imponente. Imponente che ha dimostrato ovviamente di mettere le carte in tavola o soprattutto ha dimostrato di poter cambiare le regole di quelli che sono i classici schemi di un RPG open world quindi sono molto contento di averlo giocato molto soddisfatto soprattutto di averlo giocato subito e sicuramente non mancherà la possibilità magari di poterlo riapprezzare in un secondo momento anche per diciamo anche per conto mio proprio perché mi ha permesso veramente di perdere tantissime ore però perdere da un senso positivo ovviamente è una valenza positiva e sicuramente ha vinto il gioco dell'anno e un motivo c'è. Il primo posto per me a differenza di quello che possono pensare gli altri è sicuramente di God of War Ragnarok God of War Ragnarok è un titolo che mi ha veramente veramente sorpreso e colpito in maniera molto aggressiva God of War Ragnarok per chi non lo conoscesse è il seguito ovviamente del reboot chiamiamolo così anche se in realtà non è tanto un reboot ma è proprio il continuo fondamentalmente della storia del nostro Kratos che avevamo lasciato precedentemente su PlayStation 3 e che adesso finalmente dopo diversi anni dalla sua scomparsa dalla mitologia greca approda verso quella che è la mitologia norrena mitologia norrena che a me personalmente piace tantissimo e che è stata valorizzata e ha arricchito la storia di Kratos in maniera esemplare il primo God of War mi aveva già colpito e mi aveva già mi aveva già incantato per le ambientazioni, la musica, lo stile di gioco e tutto quello che siamo riusciti a fare God of War Ragnarok ha praticamente ripreso le stesse cose del primo titolo e le ha migliorate ho sentito delle critiche durissime nei confronti di God of War Ragnarok ma secondo me sono delle critiche non dico infondate ma date soltanto da un pregiudizio si pensava che God of War Ragnarok dovesse essere chissà quale titolo e chissà quale innovazione avrebbe portato all'interno del gioco ma in realtà ha portato qualche piccolo cambiamento che non ha snaturalizzato comunque il titolo originale cosa che io ho apprezzato tantissimo l'unica pecca fondamentalmente del gioco è che la parte finale secondo me è stata un pochettino troppo rasciata i presupposti per poter fare una trilogia erano sicuramente presenti con la possibilità di poter riunire i regni sotto un unico leader che in questo caso sarebbe stato Kratos e poi successivamente vivere l'atmosfera e vivere soprattutto il Ragnarok con un capitolo a parte che avrebbe chiuso effettivamente una trilogia anziché far uscire soltanto due titoli con una parte finale decisamente rasciata una parte finale tagliata di qua e di là per chiudere il gioco in una tempistica di ore decenti che secondo me poteva essere valorizzata e magari viscerata un po' di più avrei fatto veramente una trilogia con l'ultimo titolo che per l'appunto avrebbe rappresentato il Ragnarok vero e proprio e questo invece titolo di intermezzo questo secondo titolo che poteva tranquillamente narrare tutte le vicende che avrebbero preparato i nostri eroi a Ragnarok sarebbe stato secondo me molto più corretto e molto più bello anche dal punto di vista di diciamo collezionismo per quanto riguarda i fan della saga però diciamo che alla fine accettiamo quello che riceviamo non sono neanche tanto d'accordo con il finale mi sarei aspettato un finale un finale magari un po' più particolare un po' più intenso e anche diciamo lacrimoso mettiamo un aggettivo così particolare proprio perché in realtà mi sarei aspettato un colpo di scena finale che purtroppo non c'è stato non faccio spoiler per evitare ovviamente a chi vuole recuperare questo titolo di poterselo giocare con tutta tranquillità però per quanto riguarda tutto il resto per me God of War Ragnarok è sicuramente il titolo migliore che io abbia potuto mai giocare in questo 2022 ci sarebbero tantissimi altri titoli da citare che ho giocato e che sicuramente meriterebbero una menzione speciale però non lo faccio perché sarei anche di parte per alcuni titoli come per esempio Final Fantasy VII Crisis Core Union ma questo è un altro discorso e quindi preferisco mantenere la mia top 5 con questi titoli e sicuramente spero che qualcuno di voi possa pensare le mie stesse cose detto ciò vi ringrazio per aver visto il video vi aspetto con un prossimo episodio che sicuramente sarà i flop del 2022 però detto ciò io per il momento mi fermo qui vi ringrazio ancora per aver visto il video e come sempre vi aspetto alla prossima bye bye